Il futuro pone davanti sfide ma anche soluzioni possibili. Diversamente dal passato, le tecnologie e il capitale di soluzioni apprese da esperienze precedenti ci permettono margini di manovra più ampiri rispetto ai nostri predecessori. Il convegno organizzato da ISTAO e Harvard Business Review Italia ha l'obiettivo di mettere in evidenza i principali macro trends che caratterizzeranno il contesto nazionale ed internazionale e le prospettive di medio-lungo termine in cui le imprese si troveranno ad operare. La presentazione delle variabili che si delineranno per il prossimo 2030 apre a riflessioni sulle quali è possibile fin d'ora avviare tavoli o cantieri di lavoro per risoluzioni intelligenti e sostenibili. È un importante confronto fra alte competenze del territorio regionale e anche a livello nazionale su uno sguardo verso le marche del 2030. Consapevole dei punti di forza di questo territorio, di quello di cui ha bisogno e vedere anche nell'innovazione, nel digitale, in una crescita in termini di uso delle tecnologie una prospettiva interessante per l'intero sistema. La nostra regione ha vissuto anni complicati, ha bisogno di essere rilanciata su molti punti, da quello dell'area interna, in modo particolare quelle colpite dal sisma, ma anche per le altre che hanno bisogno di progetti per il rilancio, per l'attenzione ai confronti di chi ci vive, per le opportunità economiche, anche le connessioni ai servizi, ha uno sguardo sul sistema più in generale, un sistema economico che va accompagnato in un percorso già iniziato ormai da tempo, in un mondo cambiato, dove si compete con la competenza, si compete in un rapporto stretto nel sistema duale con l'alta formazione, nell'innovazione tecnologica, nella capacità di cogliere quelle opportunità che il mondo di oggi ci dà, con un vandole con la tradizionale capacità delle nostre imprese di competere.